La ringrazio Presidente, cercherò di essere il più veloce possibile, molti dei temi che ho sentito riportare questa mattinata e affrontare sono già stati ampiamente discussi nella giornata di ieri, sono questioni sulle quali ho già offerto il punto di vista del Governo, come sempre ovviamente risponderò prevalentemente alle cose che non condivido per cercare di guadagnare tempo anche perché noi siamo impegnati in un altro appuntamento al Quirinale, sempre propedeutico, al Consiglio europeo. Sono molte le questioni che non condivido, dico di più, io ho sentito una grande quantità di cose false in questo dibattito e la considero una buona notizia. Non vi preoccupate, poi ci arriviamo, le racconterò, le racconterò quelle che posso raccontare, ma voglio dire che la considero una buona notizia perché quando si ha bisogno di dire cose che non sono vere evidentemente non si ha molto da dire su quello che vero è. Partiamo dal tema ovviamente dell'immigrazione che è stato il tema principalmente attenzionato. Da ben due interventi dell'opposizione, in ben due interventi dell'opposizione si dice Presidente, nel suo discorso lei ha detto che Cutro è una disgrazia e invece è una tragedia. Dal mio intervento di ieri, che immagino non abbiate letto un pezzetto, l'avrete letto tutto, anche la rotta marittima orientale, sebbene con numeri più contenuti, non è meno complicata da gestire come ha purtroppo confermato la tragedia di Cutro. Come sapete all'indomani di questa disgrazia ho chiamato la Presidente della Commissione von der Leyen e quindi diciamo mi pare che già avviare una polemica su una cosa che ho ampiamente detto è francamente bizzarro. E vedete alla fine, come ho già detto ieri, a me pare che fondamentalmente torni questo tema, di un lavoro con il quale pur senza avere evidenze, pur senza avere prove, nonostante il Governo abbia in buona sostanza raccontato quanto accaduto a Cutro minuto per minuto, si continui implicitamente a voler dire che il Governo non avrebbe salvato queste persone perché non aveva la volontà di salvare queste persone. Poi, quando io questo l'ho chiesto direttamente, mi si è risposto di no, ma si continua a insinuare questo dubbio pur senza avere elementi. Io citavo ieri una collega del Senato, del PD, che diceva, citando a sua volta Pasolini, sappiamo tutti la verità ma non abbiamo le prove. No, se non hai le prove in uno stato di diritto non hai neanche un colpevole perché in uno stato di diritto i colpevoli li fanno le prove e non si stabilisce a monte un colpevole e poi anche quando le prove non ci sono si continua a raccontare il colpevole. Ma vedete, al di là dei riferimenti francamente abbastanza avvilenti sul fatto che io sia o meno una madre, che io mi comporti o meno da madre, ho citato questo tema ieri e cito questo tema oggi per dire che evidentemente ai colleghi sfugge la conseguenza di questo dibattito e cioè dall'inizio del mio mandato l'Italia ha salvato 36.500 persone in mare. Noi siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro, delle volte al di fuori dai nostri confini nazionali e raccontare al cospetto del mondo di fronte a quell'enorme sforzo che stiamo facendo che invece lasceremmo bambini morire nel Mediterraneo e davanti alle coste calabresi è sì una calunnia non del governo, è una calunnia nei confronti dello Stato italiano, è una calunnia nei confronti degli uomini e delle donne, delle forze dell'ordine che stanno facendo sacrifici enormi, è una calunnia nei confronti del nostro intero sistema o volete dire che ci sono uomini delle nostre forze dell'ordine che non salverebbero bambini perché gli dà questa indicazione il governo, è una mancanza di rispetto anche verso di loro, è una mancanza di rispetto anche verso di loro e guardate lo voglio dare qualche dato, scusate, perché non li avete salvati? Colleghi, colleghi, per cortesia, ritorniamo per ascoltare il Presidente del Consiglio, per cortesia, grazie, grazie. E guardate, voglio dare qualche dato e fare qualche domanda, dal 2013 al 2023 secondo i dati dell'UNHCR nel Mediterraneo sono morte complessivamente 25.692 persone, ora io sono andato a guardare qual era la percentuale, purtroppo sappiamo tutti perché è accaduto a tutti, che il rischio che qualcosa vada storta è insito nelle partenze in sé, perché infatti è accaduto a tutti i governi. Sono andato a guardare la percentuale di quante persone non si è riusciti a salvare il rapporto alle persone che sbarcavano. I dati di questo Governo sono i più bassi, cioè noi siamo quelli ad oggi che in rapporto agli sbarchi che arrivavano, eppure in una situazione che non ha precedenti sul tema migratorio, sono riusciti potenzialmente a salvare più persone. I dati smontano una certa propaganda e infatti ci viene riconosciuto anche dalla Commissione europea. La Commissaria UE agli affari interni Johansson dice che dobbiamo ricordarci che la Guardia Costiera italiana nel corso dello stesso fine settimana della tragedia di Cutro ha salvato le vite di 1.300 persone. Stanno facendo un ottimo lavoro e questo va riconosciuto. Ringraziamo la Commissaria europea per il rispetto che almeno lei ha nei confronti della nostra Guardia Costiera e nei confronti dell'Italia per la situazione che l'Italia sta affrontando con enorme difficoltà. Dopodiché, signori, abbiamo già risposto mille volte e se si continuano a dire cose false, purtroppo è difficile essere, scusate, è difficile perché io ho sentito dire ad esempio, scusate colleghi, per cortesia, poi avrete la possibilità di parlare dopo. Io ho sentito dire per esempio in questo dibattito mi pare dal collega Bonelli, ma non vorrei sbagliarmi, che noi abbiamo negato che Frontex avesse fatto una segnalazione sulla presenza di questi migranti e questo io non ho mai negato una cosa del genere, onorevole Bonelli, ho detto sempre una cosa diversa, cioè che la segnalazione di Frontex, signori, vi prego, che la segnalazione di Frontex, questo ha detto il Governo, era una segnalazione di polizia, cioè era una segnalazione della presenza di una nave, ma non della situazione di difficoltà della nave, questo noi abbiamo sempre detto e se lei ha bisogno in questa sede di dire una cosa diversa da quella che noi abbiamo detto è perché evidentemente è la vostra versione che non torna, non la nostra. Dopodiché spero si possa andare avanti per cercare insieme delle soluzioni e io penso che alla fine siamo sempre allo stesso tema. L'unico modo possibile di impedire che queste cose si ripetano è fermare le partenze illegali e questo è esattamente il lavoro che il Governo sta cercando di fare con un piano molto articolato, questo è esattamente il lavoro che il Governo sta cercando di fare con un piano articolato rispetto al quale francamente non mi sono chiare quali sono le alternative che vengono proposte, cioè qual è il lavoro che sta facendo il Governo italiano e qual è il lavoro che il Governo italiano porta al Consiglio europeo e qual è il lavoro sul quale stiamo, io ho detto ieri che chiaramente per noi non è ancora sufficiente, che saranno importanti i risultati concreti, vedremo le conclusioni di questo Consiglio europeo, vedremo che cosa la Commissione riferirà su come concretamente mette a punto quello che è stato discusso nell'ultimo Consiglio europeo, gli obiettivi che ci siamo dati, c'è sicuramente tantissimo lavoro da fare, il punto è siamo d'accordo sul quadro di riferimento? No, perfetto, non siamo d'accordo, io ripeto a beneficio del Parlamento un'altra volta che cosa stiamo facendo noi e prima o poi sono certa di riuscire a capire anche quale è l'alternativa secondo i colleghi dell'opposizione, il lavoro che stiamo facendo noi è lavorare con risorse, implementazione di strumenti, accordo con i paesi del Nord Africa per insieme fermare i trafficanti, fermare le partenze illegali, parallelamente abbiamo ripristinato il decreto flussi che vi ricordo quando c'erano altri al governo è stato azzerato, cioè in Italia non era possibile entrare legalmente per lavorare perché tutte le quote di immigrazione erano coperte da gli entrava illegalmente facendo fare la selezione di ingresso a casa nostra agli scafisti, meccanismo che io non condivido e non condividerò mai, io credo che sia molto più serio dare prospettive, infatti noi abbiamo portato il decreto flussi a un decreto triennale, cioè dare chiari obiettivi e chiare misure su come si possa seriamente ambire a venire in Europa per coloro che non sono rifugiati, per avere quella vita migliore che in passato gli è stata promessa ma non gli è stata data con flussi regolari, di modo da fermare il più possibile l'immigrazione illegale anche cooperando con i paesi del Nord Africa e quindi abbiamo lanciato il nostro piano Mattei che è un piano di investimenti con il quale speriamo... non gli piace il piano Mattei, loro non vogliono investire in Africa e vabbè ragazzi, ognuno ha le sue priorità. Abbiamo lanciato una, stiamo facendo un lavoro diplomatico di cooperazione, ripeto non predatoria, cioè di cooperazione che possa lasciare il più possibile in Africa perché abbiamo visto in passato e vediamo anche oggi con l'indietreggiare dell'Unione Europea e la presenza di altri attori in Africa che hanno un approccio più predatorio, che tendono ad andare lì a estrarre le risorse necessarie a loro delle quali l'Africa è ricca e non lasciare niente di ricchezza a questi paesi. Siamo almeno d'accordo sul fatto che questa tendenza vada modificata e che si debba portare investimenti per consentire agli africani di vivere di quello che hanno e che oggi purtroppo molto spesso non viene lasciato loro perché è la proposta che io sto facendo al Consiglio europeo, dopo di che accelerazione, una iniziativa comune europea sui rimpatri, accelerazione dei rimpatri e un lavoro che ha una cornice sulla quale devo dire che io, al di là del fatto che sicuramente bisogna andare più veloci, ma trovo anche una convergenza sostanziale da parte del Consiglio europeo, particolarmente anche da parte della Commissione. Sentivo il collega della Edova a dire che l'immigrazione in Europa non si risolve con il nazionalismo, con la difesa degli interessi nazionali. Guardi, io credo che non si risolva soprattutto con proposte che sono irragionevoli, perché quando le proposte sono ragionevoli, atteso che abbiamo tutti lo stesso problema, cioè il governo dei flussi migratori, uno riesce ad avere sicuramente maggiore attenzione nelle proposte che pone. Voglio dire, per anni l'Italia è stato rinfacciato, collega della Edova, lei lo sa bene, che noi non facevamo abbastanza per fermare i movimenti secondari e il dibattito si è concentrato su questo. Io ho tentato di spiegare banalmente che è molto più difficile lavorare sui movimenti secondari se a monte non si cerca di gestire i movimenti primari, perché è ovvio che quando i nostri hotspot sono pieni, come oggi sono pieni, diventa molto più difficile essere precisi per impedire che questi migranti passino dall'Italia ad altre nazioni, perché non possiamo neanche accettare il presupposto che l'Italia sia condannata a diventare il campo profughi d'Europa. E quindi se ci si aiuta a governare i movimenti primari si riesce più facilmente a governare i movimenti secondari. È sicuramente una posizione di buonsenso sulla quale io, voglio dire, ho trovato un approccio assolutamente interessato, tant'è che questo cambio di paradigma è nelle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo. Dopodiché, ripeto, io non ho capito concretamente quale sia la proposta alternativa, però sento di parlare soprattutto del tema del regolamento di Dublino, sicuramente il regolamento di Dublino va rivisto, però continuo a segnalare sommessamente che non è una soluzione per l'Italia, perché colleghi, immagino che voi sappiate che il regolamento di Dublino si riferisce a chi ha ragionevolmente la possibilità di avere una protezione internazionale che sia la Convenzione di Ginevra, che sia la protezione sussidiaria. E voi sapete anche che la percentuale di migranti che arriva da noi, che ha ragionevolmente diritto a questo genere di protezione, è una minoranza. Quindi, anche quando noi dovessimo arrivare a ottenere di più sul regolamento di Dublino, il tema di 70-80% di chi arriva da noi, che rimane in Italia senza avere risposte e soluzioni, è un tema che rimane. Quindi, io credo che serva un approccio più globale, credo che quell'approccio non possa prescindere dal dialogo con le autorità africane, con i paesi africani, con la cooperazione con quei paesi, con il sostegno di fronte alle difficoltà. Si citava la Tunisia, l'ho detto ieri, l'ho raccontato, è un lavoro che sta facendo soprattutto l'Italia, sul quale ha chiesto aiuto all'Europa, sul quale ha chiesto aiuto a tutti, diciamo, le persone che possono avere su questo un'influenza, soprattutto per sbloccare la linea di credito del Fondo Monetario Internazionale, perché, signori, la Tunisia è in una situazione finanziaria molto complessa e se non si interviene noi rischiamo di avere un flusso che nessuno potrebbe governare. È chiaro? Ma mentre qualcuno qui ci viene a spiegare che noi faremmo non si sa che cosa di folle, noi stiamo lavorando per risolvere questi problemi. Io ieri ero al telefono con la Presidente della Commissione europea von der Leyen per parlare del tema di come aiutare la Tunisia a evitare un default finanziario che ci consegnerebbe qui centinaia di migliaia di persone. Questo è quello che fa un lavoro serio ed è quello che stiamo facendo. E su questo, ripeto, il dialogo con le autorità europee e con le autorità africane è fondamentale. Anche qui ho sentito dire una cosa falsa, che noi abbiamo sempre detto che ce ne saremmo occupati da soli perché il blocco navale volevamo fare da soli. Guardate che, voglio dire, questo anche sta agli atti per cui basta riprendere una qualunque delle mie dichiarazioni che ho fatto per decenni. Io ho sempre configurato la proposta del blocco navale come una missione europea in accordo con le autorità libiche per fermare le partenze e portando... Vabbè, ma voi continuate a vivere in un mondo che non è quello che ho vissuto io, ma saprò io che cosa ho detto nella mia vita o per sapere meglio di me che cosa dica e che cosa pensi? Scusate. Dopodiché ci sono gli atti e gli atti lo confermeranno. E quindi credo, non ho anche su questo, lo dico anche per dire a Cospetto chi dice che non ho cambiato idea, io lavoro per un obiettivo di questo tipo, cioè per una missione europea che blocchi le partenze in accordo con le autorità nordafricane, in questo caso libiche si diceva una volta, portando anche cooperazione allo sviluppo, investimenti, lavoro, formazione. Un'altra cosa che ho sentito dire falsa su questa materia riguarda il tema della protezione speciale. Scusate, collega De Luca diceva che le nostre norme più stringenti sul tema della protezione speciale sono una violazione delle norme internazionali europee di riferimento. Temo, collega De Luca, anzi temo Presidente, che il collega De Luca debba meglio documentarsi perché è esattamente il contrario, è esattamente il contrario. Cioè negli altri paesi europei esiste la Convenzione di Ginevra e in aggiunta la protezione sussidiaria dell'Unione Europea. L'Italia con la sua aggiunta di un'ulteriore protezione, prima protezione umanitaria, adesso protezione speciale, è una anomalia in Europa. Per cui in questo caso, guardi, io sono più europeista di lei perché voglio avere il riferimento alle norme che ha il resto d'Europa e non aggiungere ulteriori strumenti che servono solamente a liberi tutti che è stato favorito in questi anni. Anche su questo ho sentito dire una cosa falsa. Dopodiché, è quello che lei ha detto, io rispondo a quello che ho sentito dire, colleghi. Sto cercando di vedere se c'è qualcosa che ho dimenticato di questo tema, altrimenti andiamo avanti. Ok. Allora, dopodiché c'è il tema che è stato anche questo più volte segnalato, che è stato oggetto di molti interventi della transizione verde, della direttiva sulle auto, della direttiva sulle case. anche qui cerco di dare qualche risposta. Partendo dal collega Bonelli, io ho trovato molto interessante i suoi sassi dell'Adige, però insomma, presumo lei non voglia dire che in cinque mesi ho prosciugato l'Adige, perché neanche Mosè, ok? E quindi forse deve fare i conti con il fatto che questi problemi come l'Adige che si prosciuga sono figli di tutto quello che finora non è stato fatto o che è stato fatto di sbagliato. Perché io non sono Mosè, collega Bonelli, la ringrazio per attribuirmi i poteri che non ho, ma non ce li ho e quindi non ho prosciugato l'Adige io. Allora, insisto e torno sul tema. Presidente, le ricordo di rivolgersi alla Presidenza, grazie. Il tema è, siamo d'accordo sul fatto che abbiamo un problema? Io sono una persona che rispondo... Onorevole Bonelli, per cortesia. Presidente, si rivolga alla Presidenza così evitiamo... Grazie, onorevole Bonelli. Mani, volatrice, mi mancava stamattina. Allora, dicevo che il tema rimane quello che io, su questo ho già cercato di dare delle risposte. Siamo d'accordo, siamo d'accordo sul fatto che c'è un problema, ok? Siamo d'accordo sul fatto che quel problema va affrontato. Siamo d'accordo, dico di più, con gli obiettivi che l'Europa si dà sul tema della transizione verde. Su cos'è che non siamo d'accordo? Ma questo non vuol dire, ovviamente, per come la vedo io, voi dite il contrario, ma io ribadisco che non vuol dire non credere nella transizione verde. Quello su cui non siamo d'accordo è se l'Europa debba a monte dirci anche quali sono le tecnologie necessarie per raggiungere quegli obiettivi che l'Europa impone. Su questo io e lei non siamo d'accordo. Io penso che la sfida di una nazione come l'Italia debba essere, al netto di quegli obiettivi, stabilire il più possibile una diversificazione tecnologica che ci consenta, punto primo, di non devastare il nostro sistema produttivo, punto secondo, di lavorare su avanguardie che noi in questa nazione abbiamo. È su questo che non siamo d'accordo. Lei dice che l'elettrico è la panacea di tutti i mali. Io le devo segnalare che su questo non sono d'accordo. Non sono d'accordo per varie ragioni. Non sono d'accordo perché non mi sfugge come i componenti fondamentali dell'elettrico vengano estratti con tecniche che devastano l'ambiente. Perché non mi sfugge che quei componenti vengono prodotti prevalentemente in Cina con le centrali a carbone. E si chiamano emissioni globali, onorevole Bonelli, per una ragione. Io non sono d'accordo. C'è un problema enorme di smaltimento delle batterie. C'è un problema legato ai metalli e alle terre rare. Che non sono chiamati metalli e terre rare perché sono rari. Sono chiamati metalli e terre rare perché le tecniche estrattive necessarie a tirarli fuori sono tecniche che devastano l'ambiente e che molte nazioni non si vogliono caricare. Allora perché uno deve criticamente seguire quello che altri sostengono invece di provare a giocare una sua partita sul piano tecnologico? È questa la sfida che io sto cercando di porre. Ma ne abbiamo già parlato sul tema per esempio delle auto. Io penso che tutta la sfida che abbiamo già citato sui biocarburanti sia una sfida che l'Italia si può tranquillamente intestare perché noi siamo un'avanguardia lì. Noi siamo l'avanguardia lì. È chiaro? Dopodiché anche tutto il lavoro energetico che noi stiamo facendo, diciamo di Italia come hub energetico, è un lavoro di diversificazione nella produzione di energia anche con i paesi del Nord Africa che prende in considerazione tutte le energie possibili. Questa è la materia. Io, vabbè queste sono parole, figuriamoci, secondo me lo sono le vostre, ma voglio dire poi lo vedranno i fatti. No, io ho la responsabilità di governare questo processo perché sta a me. Ci diranno i fatti, ci diranno i fatti se sono parole oppure no. Io posso dirvi attualmente che quello che ha prodotto un certo approccio ideologico a questa materia oggi è una situazione che sul piano ambientale non mi pare, diciamo come lei ricordava appunto con l'esempio che ha formulato, non mi pare messa benissimo, ma soprattutto il rischio, dopo tutto quello che abbiamo imparato all'indomani dell'aggressione russa all'Ucraina, di passare dalla dipendenza del gas russo alla dipendenza dell'elettrico cinese. Non mi sembra una cosa intelligente. Credo che l'Europa debba lavorare sulla propria sovranità su queste tecnologie. Questo è il tema che io pongo e il tema sul quale voglio lavorare. Dopodiché Scusate, sto cercando di... Ma sì, guardi... Dopodiché, anche sul tema direttiva green, anche sul tema direttiva green, intanto voglio dire una cosa all'onorevole Santillo del Movimento 5 Stelle che diciamo ci diceva che il super bonus è stata una grande cosa e che soprattutto il super bonus rappresentava una sorta di antesignano della direttiva europea sugli edifici green. Ora, la direttiva europea sulle case prevede che gli edifici siano classificati per impatto ambientale su una scala che va da A, meno inquinante, a G, diciamo più inquinante. Secondo la direttiva, gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033. Ogni nuovo edificio deve essere realizzato a emissioni zero a partire dal 2028 se costruito da privati e dal 2026 se costruito per fini pubblici. La direttiva prevede anche che le classi di prestazione energetica siano ridefinite entro il 2025 e secondo la direttiva però potrà essere classificato in classe G, cioè quella di minore efficienza energetica, non più del 15% del patrimonio edilizio esistente. La riclassificazione richiesta partirà proprio dalla verifica dello stato di efficientamento successivo agli interventi finanziati con le varie forme di incentivi fiscali, superbonus, eccetera. Quindi, paradossalmente, proprio l'esecuzione di un ampio spettro di interventi di riqualificazione compiuti prima del 2025 rischia di risultare inutile, temo. Cioè i criteri tecnici e le metodologie che sono esistenti oggi verranno modificati entro il 2025 in base a scenari e a parametri che ad oggi non sono ancora definiti ma che dovranno risultare in grado di consentire il miglioramento di efficienza per la gran parte degli edifici. Conseguenza anche gli immobili oggetto di interventi finanziati con le varie forme di incentivi fiscali potrebbero per paradosso risultare non idonei perché nel frattempo sono cambiati i parametri di riferimento. Quindi anche su questo bisogna fare attenzione poi sul giudizio complessivo del superbonus qualcuno diceva voi siete il governo dell'austerità guardi, io non so voi che cosa intendiate io sono una persona abbastanza distante dal tema dell'austerità se poi per austerità si intende tentare di mettere le pezze a un provvedimento che è costato decine e decine di miliardi che ha lasciato nelle casse dello Stato un buco di 40 miliardi per efficientare meno del 4% degli edifici di cui gran parte seconde case scaricando su ogni italiano un debito di 2.000 euro anche sugli italiani che una casa non ce l'avevano per aiutare le banche a lucrarci sopra quella non è austerità, quella è serietà e quindi su questo non vi posso aiutare io la penso in maniera diversa colleghi per cortesia dopo di che anche qui per cortesia poi ci sarà la possibilità di fare le dichiarazioni sempre sulle case green che diceva che i provvedimenti di efficientamento evidentemente sono provvedimenti a carico del governo e quindi non si può dire ai cittadini pagherete tot guardi indipendentemente a chi li paga perché poi sempre soldi degli italiani sono il tema è che da una parte ci sono degli obiettivi e dall'altra non vengono garantite le risorse necessarie per quegli obiettivi perché io come ho ricordato ieri in Senato mentre i primi i primi diciamo target di efficientamento devono essere centrati entro il 2027 la Commissione risponde l'Europa risponde che i primi contributi in questo senso potrebbero partire dal 2028 e quindi il tema non è se poi questo costo se lo debba caricare direttamente le famiglie o se lo debba caricare lo Stato italiano o lei è d'accordo con chi dice che quando spendi i soldi dello Stato italiano è gratuitamente no io penso che sia uguale sono sempre soldi degli italiani e quindi attenzione 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 come al solito a trasformare vabbè Presidente Onorevole Bonelli per cortesia non è un dibattito facciamo finire l'Onorevole Moloni poi il vostro gruppo avrà possibilità di replicare io penso che diciamo l'assenza anche di contributi rispetto e di risorse destinata a una materia di questo tipo rischi di risolvere anche questa fattispecie in buona sostanza in un ulteriore onere molto complesso in un momento particolarmente difficile e quindi abbiamo per questo preso le posizioni che abbiamo preso sulla materia energetica dopo di che ho un altro paio di cose da dire una Ucraina MES patto di stabilità e chiudo sul patto di stabilità Onorevole Scerra sono abbastanza d'accordo nel senso che la proposta che ha formulato la Commissione non è esattamente diciamo il nostro desiderata dopodiché allo stato attuale mi pare che rispetto a quella proposta si rischi anche di tornare indietro e faremo del nostro meglio obiettivamente per migliorarla anche insomma se mi corre l'obbligo di ricordare che è formulata diciamo da realtà politiche che sono più vicine a voi di quanto non lo siano alla sottoscritta però faremo del nostro meglio sono d'accordo sul fatto che assolutamente l'ho rivendicato in passato lo dico anche oggi che si debba creare che si debbano creare dei parametri di governance che tengano oggi maggiormente in conto il tema della crescita rispetto a quello della stabilità che è stato che è stato privilegiato in passato e credo che di fronte alla situazione nella quale ci troviamo nella quale tra l'altro l'Europa comincia a fare alcuni investimenti molto importanti in tema di sovranità di alcune catene produttive strategiche credo che per esempio anche per gli obiettivi che ci diamo con la transizione energetica con la transizione digitale una serie di investimenti che sono necessari per raggiungere questi obiettivi si debba ragionevolmente tenere in considerazione che diciamo non vengano computati nel futuro rapporto tra deficit e pil dopodiché sul tema del mess che insomma non era all'ordine del giorno non è all'ordine del giorno del Consiglio europeo però è stato citato in più occasioni appunto anche in rapporto a quello che è accaduto negli ultimi giorni cioè si discute della riforma del mess anche in relazione alla clausola di backstop che servirebbe a far fronte alle crisi bancarie io però devo far presente che quando è fallita la banca della Silicon Valley è intervenuta la Federal Reserve quando è fallito Credit Suisse è intervenuta la Banca Centrale Svizzera io sono certa che quando mai dovesse ma non credo una crisi bancaria insieme all'Unione Europea anche la Banca Centrale Europea farebbe la sua parte il mess non è una banca centrale e ha una disponibilità finanziaria che è sicuramente importante ma in rapporto a quello di cui stiamo parlando è una disponibilità finanziaria limitata e probabilmente come noi sappiamo di fronte a crisi che dovessero essere più importanti della sua dotazione il risultato sarebbe che il mess si troverebbe costretto a richiamare gli stati aderenti a rifondere il mess stesso per fare fronte a queste crisi quindi io diciamo sarei prudente l'ho già detto durante il question time il governo prende seriamente in considerazione la proposta di Confindustria perché crediamo che il mess possa o che si debba almeno aprire il dibattito per ragionare su come il mess che oggi è uno strumento l'abbiamo detto tante volte insomma che in ogni caso non è particolarmente diciamo non è stato molto spesso utilizzato possa diventare uno strumento reale di sviluppo industriale di sviluppo anche finanziario europeo io penso che dalle crisi passate noi dobbiamo da questo punto di vista imparare quindi provare più che inseguire quello che è di fronte a una situazione che è continuamente in mutazione provare ad adeguare gli strumenti di cui disponiamo a quella mutazione perché gli strumenti l'ho detto mille volte strumenti sono non sono mai dei totem non sono religione non sono ideologia sono strumenti si valutano in base alla loro utilità in base alla loro efficacia invece registro che nel nostro dibattito molto spesso quelli che sono strumenti diventano sostanzialmente dei totem indiscutibili ultimo accenno lo faccio ai colleghi del Movimento 5 Stelle riguardo al tema dell'Ucraina l'onorevole Scudellacci dice fermatevi penso che lo debba dire a Putin onorevole e mi fa specie che lo dica a noi perché probabilmente questo tradisce una posizione cioè vuol dire consentire l'invasione dell'Ucraina perché se noi ci fermiamo noi consentiamo adesso le cose vanno chiamate con il loro nome se noi ci fermiamo noi consentiamo l'invasione dell'Ucraina ora io non sono così ipocrita da scambiare una invasione con la parola pace e quindi credo che non si debba consentire l'invasione dell'Ucraina che non vuol dire non lavorare per un piano di pace o che non lavorare per una soluzione del conflitto ma pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra pensate che qualcuno davvero si diverta a stare in questo quadro no ma chiaramente la situazione è un tantino più complessa di come la fa certa propaganda perché si parla di pace perfetto mi si può dire quali sono secondo voi le condizioni per aprire un tavolo di trattative concretamente scendiamo nel tema della pace perché è un tema che a me appassiona l'ho già detto in questa tavola lo ribadisco cioè voi ritenete ad esempio che per aprire un qualsiasi tavolo di trattativa si debba o non si debba a monte chiedere alla russia di cessare le ostilità e ritirare le truppe dal territorio ucraino ritenete che si debbano rivedere i conflitti dell'ucraina e come ritenete che si debbano dare a mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di autodeterminazione o no questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana di un popolo libero e del diritto internazionale e questo è irresponsabile grazie 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 colleghi a facoltà di intervenire grazie